e questo è il ballo di qua qua che non fa meno che sa ma ne sono qua 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 buongiorno oggi siamo in versione pulizia tutta la mattina che mi faccio un mazzo la 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 e lava e pulisci e sgrassa e stira ce la faccio più oppure andata lavare la macchina metti il campari togli il campare metti il campare togli il campare metti il campare togli il campare oggi do il bianco oggi do il bianco sicuro anzi mi sta a dipingere oggi più tardi vi faccio vedere le creazioni aiaiaia ciao